Ti senti spesso gonfia, stanca e difficoltà a perdere peso e ti sembra che il tuo metabolismo sia rallentato? Probabilmente bisogno di un piano detox, però con alcune attenzioni importanti. Prima di partire lascia che mi presenti, sono Alice Veglio, International Fitness Celebrity Coach, sono vincitrice di numerosi premi internazionali per l'empowerment femminile e per il fitness e sono scrittrice best seller del libro Il Cuore e il Diamante. Torniamo all'argomento di questo video. I piani detox non sempre sono l'opzione migliore, specialmente quando sono dei piani fai da te che consistono principalmente in diete svilenti della fame. Per riuscire realmente ad ottenere risultati su un corpo che sembra eternamente gonfio, stanco e senza energie, bisogna ripartire dalla tua routine con migliori accorgimenti sulle combinazioni alimentari, migliori accorgimenti in termini di stile di vita e migliori accorgimenti sui tuoi allenamenti che, attenzione, non devono essere lunghi ma devono essere di qualità. Ho deciso quindi di condividere con te tutti i migliori suggerimenti per iniziare fin da subito il tuo piano detox pronto a darti risultati tempestivi e soprattutto duraturi all'interno di un video a titolo totalmente gratuito che trovi cliccando sul link qui sotto. Questo metodo mi ha consentito di trasformare il corpo di più di 40.000 straordinarie super donne proprio come te. Quindi ti aspetto all'interno di questo contenuto esclusivo che trovi qui sotto e poi se lo vorrai all'interno del mio programma completo. Ciao!